Coppa Italia di Serie D, il Potenza batte per 3-0, al Bibiani Ligia Virtus e passa il turno. Prima rete il rosso-blu di Pepe alla mezz'ora, sette minuti dopo arriva il raddoppio di Bertolo. Siclari all'85esimo chiude il match con un gol segnato su calcio di rigore. I Lucani si qualificano ai quarti di finale, incontreranno il Cerignola il 28 febbraio.